Uomini e donne, Nicole ha dei dubbi su Carlo, ma qualcosa non convinza. La tronista di Uomini e donne ha espresso dei dubbi su Carlo, vedo che ti perdi. Nella puntata di oggi di Uomini e donne la tronista Nicole Santinelli ha lasciato di stucco il pubblico e i suoi corteggiatori quando ha espresso dei seri dubbi su Carlo, quello che le ha dimostrato, finora, l'interesse più forte di tutti. Vedo che ti perdi al di fuori delle telecamere, insomma, non gli è andato giù il fatto che dopo l'ultima puntata non ha chiesto alla redazione come lei stesse. Mi aspetto che abbiate un po' di curiosità nei miei confronti ha concluso lei in studio. Poi è stata la volta degli interventi dei suoi due corteggiatori. Nicole Santinelli non convince Gianni Sperti, che torna a bacchettare Andrea. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Perché ancora non sa chi le fa battere di più il cuore, se Andrea o Carlo. Bisognerà capire se accetterà di fare una bella storia con un uomo che finora appare troppo impostato oppure fidarsi della sincerità del secondo, che sembra essere sempre più vicino alla fase di innamoramento totale. Nel frattempo le sue esterne vuote sono state definite tale da un'ex corteggiatrice.